Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. In questa terza domenica di avvento, come già nella domenica precedente, il protagonista della narrazione evangelica è Giovanni il Battista. Con una caratteristica peculiare, però. Viene presentato nella sua qualità di testimone. Ora noi rischiamo di ridurre la categoria della testimonianza a un qualcosa di moralistico, a un semplice dare il buon esempio. Il testimone invece è molto più di questo. È colui che concepisce se stesso solo in relazione ad un altro. La nostra epoca è malata di una concezione errata del vivere, in cui domina la figura del self-made man, dell'uomo che si fa da se stesso. Giovanni il Battista invece, proprio in quanto testimone, afferma che la vita ha senso, che l'esistenza ha senso e compimento solo in relazione ad un altro. Questa esperienza di relazione è un'esperienza di non possesso di noi stessi. E in questa esperienza di depossessamento noi veniamo liberati dalla misura meschina che coincide con il nostro presunto io. E veniamo invece proiettati verso un'ampiezza di orizzonti che l'altro introduce nella nostra vita. Certo, gli orizzonti ampi possono anche fare paura, ma è solo di fronte a questo spazio immenso di libertà che ciascuno di noi può fare esperienza di compimento e quindi di gioia, così come dicono le parole del profeta Isaia della prima lettura. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio. Solo nel Signore, cioè solo nella relazione con un altro. Il nostro io può fare esperienza di gioia e quindi di compimento del desiderio del cuore.